Ciao a tutti! Oggi prepareremo le patate gradinate al gorgonzola. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono patate tagliate a fette, acqua calda, sale, latte, gorgonzola piccante, mascarpone, parmigiano grattugiato, prezzemolo e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il sale, chiudere con il coperchio senza il misurino, posizionare il varoma con le patate, chiudere con il coperchio e cuocere per 25 minuti, temperatura varoma, velocità a 2. mettere da parte le patate e svuotare il boccale. Abbiamo svuotato il boccale, mettere il prezzemolo ed azionare il bimbi per 3 secondi a velocità a 7. riunire sul fondo del boccale con la spadola. Aggiungere il gorgonzola, il mascarpone, il latte e il pepe. Ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 5. La crema è pronta, componiamo il piatto. Mettere due cucchiai di crema nella pirofila e livellare bene. Mettere le patate, mettere sopra il resto della crema e livellare bene. Spolverizzare con il parmigiano grattugiato. Cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi per 15-20 minuti. Patate gratinate al gorgonzola. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. 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 Grazie.